Ditemi voi, non c'è precedenti nella storia repubblicana che per un errore di alcuni singoli che adesso in alcuni casi non sono neanche più in Lega, di anni e anni fa, si blocchi e si imbavagli un intero partito. Si blocchino sezioni, si blocchino conti correnti, si mettano nell'impossibilità di manifestare il loro pensiero milioni di italiani. Questa non è democrazia, cercano di imbavagliare il dissenso, di fermare la crescita della Lega, non ci fermeranno. Io vado avanti più determinato e voglioso di cambiare di prima, se lo faccio con le tasche vuote ci inventeremo qualcosa. Noi non abbiamo in mano nulla, mi metto nei panni di un singolo cittadino che senza che gli sia stato notificato nulla va in banca sul suo conto corrente e gli dicono che lei non ha più una lira. Non penso che sia proprio di un paese civile. Si parlava di 48-49 milioni per i quali era stata chiestata la confisca mettendo insieme le sezioni che lei ha citato. Neanche in 5 vite io li vedo quei soldi. Però ripeto, ci sono i referendum per l'autonomia in Veneto e in Lombardia il 22 ottobre, ci sono le elezioni in Sicilia il 5 novembre, se Renzi e Dio vorranno ci sono le elezioni politiche a febbraio, se bloccano la possibilità di far politica della Lega, secondo loro gli italiani si rassegnano. Secondo me gli italiani si arrabbiano anche di più e sortiranno l'effetto contrario. Sicuramente è un danno per noi e per la democrazia. Grazie. Grazie.